PEGI 7 e affronta le gigantesche Star Destroyers. Non credo che mai diventare accostato a questi esigenzi. Le battaglie con i Blaster ti portano nel cuore dell'azione. Schiva il fuoco nemico, prendi la mira e colpisci! Le multicostruzioni offrono modi originali per risolvere gli enigmi e attaccare i nemici. Costruirai un droide ragno? O sceglierai una strategia completamente diversa? Grazie alle molte opzioni, troverai modi alternativi per salvarti. Nuove avventure arricchiscono la storia del Risveglio della Forza. Scopri come Han e Chewie hanno catturato i Ratter e vivi le avventure di Poe e Dameron. Indaga sui retroscena di Lord San Tekka. Niente può farti vivere da vicino la più grande avventura della galassia come LEGO Star Wars, il Risveglio della Forza. Grazie a tutti!